Ciao, buongiorno, rifacciamo la diretta della casa mia, del mio, della mia Tana. Che mi ha raccontato di bello? Toda settimana un casino, aggiornamenti, bla bla, blin, buono, poi partiva gli aggiornamenti di Lofi, dovevo fare una lettera importante, cavolo di farlo, per fortuna ho fatto quello WordArt, perché se no, sarebbe il Microsoft Office più light, 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 light. Buongiorno, ragazzo che in short mi hanno portato poche altre persone, meno male, stamattina era nebbia, grigia, adesso sarà arrivata la pioggia, 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 vento, nevo, pioggia, buongiorno, è il primo aprile, pesce d'aprile, meno male non mi sono mai fatto pesce d'aprile, perché se no, fra 27 giorni, fra il 8 aprile, il mio compleanno, buongiorno, è che dire, come dico l'amico Klaus, boh, amici miei, vi voglio bene, sono un po' pensoroso, felice, più pensoroso che felice, più felice, ieri, ho debutato in società, no, non sono andato nei miliardari, eh, illuminati o quelle cose, ringrazio di cuore, pubblicamente, il maestro Klausutta, Enrico, che mi ha portato al Verdi, ero anni fa, ma tanti ero piccoli, ho 18 anni, se mi ricordo bene quella scuola, se mi ricordo, dovevo andare, ho fondato, ma non mi ricordo bene se, sì, sono stato, ma che pizze, che palla, che pizze, che voglio, non era, per bene, ieri, dopo tanti anni che dico, sì, vado a vedere un'opera, vado a vedere un'opera, boh, t'appassionato di bel canto, sono stato a vedere, che mi ricorda, qua c'è la testa, Franco proprio, hai voglia, Don Pasquale, ecco, Don Pasqua, una bellissima opera, biglietto pagato, non vado a scrocco, devo ringraziare il maestro Klausutta, proprio per averse via, trovato il biglietto, mi ha portato a far vedere, sono stato molto onorato, mi ha portato, una bella, bellissima opera, 90 minuti di, 120 minuti in tutto, con le pause e tutto, ma, meritava, so che, boh, l'isbretto costa 10 euro, merita da vedere, boh, altro che dire, niente, vi ringrazio ancora il maestro Klausutta, ringrazio il suo amico, che mi ricordo ben che viene il nome, boh, amici miei, dicevo nel computer, grazie a Dio funziona, adesso posso fare lettere su lettere bene o male, e poi, saluto Santo Danone Nardini, saluto la, tutte le, la, carissima Laura, Maria Laura, saluto Monica, Monica, Eleonora, eccetera, tutto il passore che conosco, perché si vede delle lettere, e Claudio Ravelle, mi raccomando Claudio, pronto con i giorni, e poi, cosa devi fare, sapere, devi sapere, boh, mi dispiace, ci è capitato, saluto la presa Cirolla, ringrazio ancora lei, che mi sosporta, mi dà consigli, dritte, eccetera, eccetera, saluto il dottor Malizia, saluto il dottor, è la bicarissima Domenico, ciao Domenico, come stai, stai attento, boh, siamo attenti a tutti gli orari di malattia, perché se no, rischiamo, pedalare, purtroppo è così, boh, amici miei, vi auguro una bellissima sera, buon fine settimana, fate i bravi, ringrazio il tecnico della Microsoft, che non mi ricordo il nome, ma mi ha sistemato, era solo un bug, che l'antivirus non voleva, boh, dopo meno partiti, i giorni metti partiti, funziona tutto, perché c'è Dio, altro che dire, stanchino, ciao Silva, ecco qua lì, la Lady Silva, la grande cantante di Trieste, un giorno di questi faremo una diretta live, che tu canterai, dai, appena che posso, vengo di nuovo a Trieste, ma questa volta ti la faremo a casa tua, farmo sentire il tuo bel bel canto, boh, altro che dire, niente, ringrazio ancora il maestro Cossuta, saluto il maestro Candoni, saluto il maestro Tito Lut, tutte le persone che mi conoscono, dall'ala, l'atleta, Enrico, un altro Enrico della mia fabbrica, Alberto, Marco, Alberto e tutte le persone che vi conoscono, la ciao, ecco qua la graissima Monica Colauti, una delle più brave artiste del territorio, comprate qualcosa da lei, la bellissima persona, ha belle cose, tutto fatto artigianale, eccetera, eccetera, merita a comprare, vedete, non so se questo sabato sarà, non so, vediamo se Monica mi risponde in diretta, chi sarà il sabato lì a Boffelcone, vediamo se mi risponde, perché se no, boh, altro che dire, saluto voi tutti, mi ricomando, fate i bravi, restate sani, come dice Marco Valleggi, è una bellissima persona, che non l'ho mai conosciuto, ma è una persona che è molto simpatica, saluto Alex Mart, ti ringrazio per adesso, grazie, sei un grande, dimmi se questo sabato ci sei a Boffelcone, fammi sapere, così mettiamo in diretta e la dico, che dire altro, boh, Alex Mart, purtroppo non so se farà ancora video, ma lo ringrazio dei consigli che ha dato a tutti, a noi, saluto, anche, il 9, sì, il 9 aprile ci sarò, ok, bene, la signora, la caratteristica Monica dice che il 9 ci sarà, bene, così in tempo live non saputo la cosa, è un artista, una bellissima artista, ho preso una bella bottiglia di vino, di vino, di vetro, bella grande, una bottiglione, permesso con il vetro Candoni, gli è piaciuto, spero di rifare qualcosa altro, più avanti per qualcun altro, un buon regalo, ho pensato qualcosa, forse per un altro artista, avrei da fare qualcosa Monica, preparati, boh, altro che dire, niente, vi voglio bene, un bacione a tutti, vi auguro una buona serata, ringrazio ancora il maestro Cossutta, tutte le persone che mi guardano mi scrivono, mi raccomando, iscrivetevi sul canale di Youtube, Franco Tonda, se no vi corro dietro, perché vi corro dietro è il farso elettico, altro che dire, niente, i miei vicini, Alferrio e Luciana, i amici che mi guardano lo stesso tra i miei colleghi di lavoro, e altre cose vorrei dire tante, ma non mi viene, boh, un bacio, saluto anche Tiziana di Gorizia, la professoressa Marina, ciao Marina, e tutti voi, vi voglio bene, grazie di cuore che mi supportate, iscrivetevi con il canale, per favore, fate vedere che questo canale va davanti, non sono un iacchidale, eccetera, eccetera, sono un amatore, farò solo roba amatoriale, se arriverò a una certa cifra, grandi numeri, forse di più solo cambierò il lavoro, ma per adesso mi tengo stretto il lavoro, giudate, mi sbadiglio, sto per dormire, boh, un bacio, ringrazio ancora la Microsoft, ufficialmente, che mi ha sistemato tutto, boh, saluto Dario, saluto Natascha, Germic, la titolare del Cars in corso e tutte le persone che conosco nei titolari di vari locali di Bofalcone. Altro che dire, ecco, saluto io ai ragazzi di Istanbul, che hanno raggiunto i quelli di Capodistria, tutti due li saluto, ringrazio di cuore, un bacio, fate i bravi, restate sani, e che dire, e niente, adesso vado a prepararmi, riesco a fare un po' di spesa, perché sennò poi piange il portafoglio, il portafoglio della sta piangendo, se lo senti lo devo andare a calcione, ma tranquilla, boh, un bacio, e ancora grazie, fate i bravi, e vi voglio bene, grazie dei cuori che mi state sempre vicino, è un onore sempre stare con voi, e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, frucottonza, e anche nella mia pagina, la pagina frucottonza su Facebook. Un bacio, la maestra Cirolla, di nuovo, il dottor Cirolla. Ciao a tutti, mi raccomando, fate i bravi, restate sani, il tiro ce la mandi buona, teniamo bene, la ragazza racconterò una lunga storia, purtroppo l'eserarguara ci ha un po' allontanati, ma mai dire mai. Un abbraccio, Claudia, buona serata, pronta guarigione, saluto Giovanna, da Napoli, da po' Filippo, tutte le altre persone che conosco a Napoli, da mio papà, cioè, Gianfranco e tutti gli altri. Un bacione a tutti gli artisti, cantanti che mi seguono e seguono il maestro Candoroni di saluto, un abbraccio a tutti, e ancora, vi voglio bene, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, perché sennò vi vengo uno a uno a farvi cliccare l'escrizione. Un bacio, e grazie ancora che mi seguite, buona vigilia di Pasqua, mi raccomando, fate i bravi, mangiate poco, perché tenete, dopo niente capretto quest'anno, niente agnellini, niente, ci fa una pasta asciutta agli olio e peperoncino, due urs della piastra, e roba così, no agnellini, lasciamoli stare dove c'è quella mammina, mi raccomando. Un bacio, saluto a tutti, grazie ancora, e che dire, iscrivetevi, ciao cari, vi voglio bene, saluto anche i amici del mondo, dal Brasilia, Argentina, Germania, eccetera, tutto il mondo. Vi ringrazio, grazie di cuore ancora che vi sopportate, vi sopportate qui. Se avete bisogno di parlare, stanno qua tranquilli, mi potete iscrivere sul messaggio sul media. Peter Franco, voglio parlarti, se posso, volentieri, aiuto, non do la porta, non chiudo la porta. So se veramente mi diciano offendere o qualcosa chiudo, ma se no, hai voglia, prima che mi stufo. Un bacio, un bacione ancora, vi voglio bene, forza e coraggio, sempre, ricordatevi, forza, fede e fiducia, eh. Pace, ciao.